Musica Musica Amici di Teleuniverso benvenuti anche a questo numero di Salutiamo, l'appuntamento con la salute, l'appuntamento con la medicina, l'appuntamento con l'esperienza del professor Delfo Faroni. Bentornato, con il quale prima della trasmissione si commentavano alcuni titoli di giornale che parlano in qualche modo di medicina. Uno dei quali ha suscitato la reazione del professor Faroni. Un titolo che sicuramente farà piacere alle donne. Un commento quello del professore che forse farà meno piacere ma una delle regole fondamentali della comunicazione è se non si dice la verità sicuramente non si scontenterà qualcuno ma non si fa un buon servizio. Di fatto il titolo che ha attirato l'attenzione, nella nostra attenzione era un titolo che parlava di cellulite e sosteneva che la cellulite avesse le ore contate. La cellulite, abbiamo detto già in altre trasmissioni, è uno dei temi al quale più sono sensibili le donne. Perché ha questo effetto antiestetico che si cerca in tutti i modi di contrastare e però non ci si riesce più di tanto. Di fatto abbiamo spiegato che la cellulite è un problema legato a una reazione del nostro organismo a questa quantità di acqua che è al nostro interno. Per essere più precisi, professore, per spiegarlo in maniera elementare. È un'infiammazione del derma. Quindi il derma è uno strato della pelle, c'è questa infiammazione. È in forma delle avvallature, sono delle avvallature. Ora, la cellulite ha ragione questo giornale quando racconta che ha le ore contate? No, assolutamente no. In altre occasioni, professore, lei nello spiegare cosa fosse la cellulite e nel rispondere soprattutto alle lettere di molte signore, lei ha detto c'è molto poco da fare. Sia dal punto di vista farmacologico che dal punto di vista fisioterapico che dal punto di vista estetico. Purtroppo la cellulite è quella che è e fino ad oggi siamo impotenti nella soluzione favorevole. Quindi soluzione, cioè in pratica per una signora che ha il problema legato alla cellulite, a questa infiammazione del derma, che sognasse attraverso una crema o un trattamento di qualsiasi tipo di avere la pelle di nuovo liscia come se la cellulite non ci fosse mai stata. Fino ad oggi io perlomeno non ci sono mai riuscito. E in medicina non esiste una cosa del genere. No, assolutamente no. Cosa è possibile fare per attenuare almeno la cellulite? Ma sono forme di massaggi, bagni, movimenti, ma comunque tutto lascia il tempo che trova. Quindi lascia il tempo che trova. In questo titolo, quando si parlava della cellulite con le ore contate, si leggeva di trattamenti con acque termali, anidride carbonica libera, ioni ferrosi e ione ferrico. Tutto questo può far sparire la cellulite? No, assolutamente no. Non c'è? Ed ecco perché io ho preso di petto questo articolo. Perché illudono proditoriamente le donne per fini poi economici. Non è giusto via. Professore, perché viene la cellulite? È legato al nostro comportamento, alle nostre cattive abitudini, a una cattiva alimentazione, al poco movimento? Oppure è genetica? No, no, la patogenesi vera e propria non si sa. Non si sa. Presumiamo tante cose, ma nessuno è certo. Quindi fa parte del nostro patrimonio genetico? Cioè quando una donna nasce, già scritto nel patrimonio genetico, se è più o meno esposta? Probabilmente sì. Probabilmente sì. Alle donne che le sarà capitato in tutti questi anni di professione, che le chiedono di fare qualche cosa per contrastare la cellulite, lei cosa risponde? Ma ricorriamo a dei sistemi anche ormonali, fisioterapici, eccetera. Però è un'illusione. È un'illusione? Sì. Onestamente bisogna dirlo. È un'illusione. Quindi al massimo qualche cosa si ottiene con dei massaggi, ma nulla di più. Proprio poco. Poco. Per essere onesti, poco. Professore, altra cosa sulla quale poi era particolarmente sensibile, i rischi nell'uso dei farmaci e in particolare nel abuso dei farmaci. Molte volte ci sono persone che trovano la serenità solo e soltanto se il medico gli propina qualche farmaco. Del quale poi lei commentava, a volte si potrebbe anche fare a meno. Però il paziente, se non ha questa pillola, non si sente rassicurato. Lei diceva che oltre un milione di persone, soprattutto anziani, in pratica un milione e trecentomila persone, assume più di dieci farmaci al giorno. Possibile, professore, più di dieci farmaci al giorno. Tra l'altro, lei citava questo studio dell'Agenzia Italiana del Farmaco, che ha un gruppo di lavoro sulla situazione geriatrica, quindi in età geriatrica. Un fenomeno che coinvolge l'11% della popolazione, vero? L'11% sì. Quindi oltre 12 milioni di persone in Italia, secondo l'Istat, rientrano in questa categoria. In particolare il gruppo di persone più a rischio di eccesso nell'uso di farmaci sono le persone nell'età tra i 75 e gli 84 anni. Il 55% di questi soggetti prende dai 5 ai 9 farmaci al giorno. Il 14% di questa fascia d'età assume 10 o addirittura più farmaci. Questi sono dati statistici. Ma professore, il fatto di prendere questi farmaci, che rischi può comportare possibile che in 10 farmaci non ce ne sia uno che va in conflitto con l'altro? C'è una situazione fra i farmaci e quindi è logico che i risultati, invece di essere positivi, possono essere negativi. Ma tutto questo lo deve valutare il medico curante, che constatando le condizioni generali del paziente, constatando il tipo di patologia che il paziente ha, si deve regolare nella somministrazione dei farmaci. Ove è necessario è bene dargli, ove se ne può fare meno è meglio l'ordine. Professore, uno degli errori compiuti più spesso dal paziente, in assoluta buona fede, è quello di dire che questo farmaco me l'ha dato lo specialista, per cui lo prendo occhi chiusi. Il discorso però è, lei prima citava il medico di famiglia, sarebbe buona cosa ricordare o al medico di famiglia, o anche allo specialista dal quale si è andati, che si prendono anche altri farmaci e quindi quando lo specialista ne consiglia uno, tiene conto dell'altra molecola che intanto si assume? Penso di sì, penso di sì. Qualunque specialista che aggiunge a una terapia già esistente deve valutare se ci possono essere dei contrasti fra farmaci. Intanto il primo problema è troppi farmaci, il secondo problema è assunti per troppo tempo senza controllo. Ecco, questo bisogna che lo stabilisca il medico curante, quando è ora di smettere o quando è ora di ridurre i quantitativi di farmaci che si prendono. Professore, veniamo alle domande che sono arrivate in settimana, anche qui c'è un campionario dei più vari. Allora, professore, per quali motivi vari medici consigliano di mangiare pesce azzurro perché è offetto da un aumento dei grassi nel sangue? C'è una signora che dice ma io pesci di colore azzurro non ne ho visti mai. No, invece ci sono moltissimi pesci azzurri. Il motivo reale è questo, che il pesce azzurro contiene omega 3, un acido grasso polinsaturo che naturalmente favorisce il colesterolo buono e pulisce il colesterolo cattivo. Questo in sintesi è quello che i medici consigliano di fare in questi casi qui. Ricordiamo qualche esempio di pesce azzurro che è consigliabile mangiare? Ma i pesci azzurri sono i merluzzi, sono tanti, può essere il tonno, può essere gli alici, può essere lo sgombro, sono diversi tipi di pesce. Quindi diciamo pesce prevalentemente mediterraneo? Mediterraneo. C'è per caso qualche limite nel cucinare questo pesce? No, no. Quindi comunque venga cucinato l'importante è che sia pesce azzurro. Meglio non farli fritti però. Meglio non farli fritti. A proposito di pesce, c'è uno studio di un'università americana che conferma che mangiare pesce 3-4 volte a settimana può allungare la vita perché abbatte il rischio di mortalità fino al 27% per patologie cardiache. Che addirittura si scende di un quarto nella entità del rischio. Queste conferme, professore, secondo alcuni suoi colleghi sono fin troppo rosee. Ci sono risultati che però sono innegabili perché questi acidi grassi polinsaturi di cui lei prima faceva riferimento hanno degli effetti benefici sul cuore. Quindi sono delle proiezioni troppo ottimistiche oppure in effetti fa davvero così bene? No, no, no. Sono reali le proiezioni. Sui pesci da scegliere? Lei prima citava lo sgombro, il merluzzo. Il tonno, lo sgombro, le alici, le aringhe. Sono questi i pesci che contengono più acidi grassi polinsaturi. Per quale motivo, professore, molte persone che per anni hanno praticato attività sportive, forma professionistica o semiprofessionistica, hanno spesso le giunture dolenti? Sì, ma il fatto è semplicissimo. L'uso dell'articolazione portato a decedere, come succede in chi fa lo sport per diletto o per professione, consuma la cartilagine, cioè quella membrana che riveste le ossa. Una volta che questa membrana si consuma, è logico, si verifica un avvicinamento delle due ossa. Questo artrito può provocare dei fenomeni di dolorifici. Professore, lei ci ha insegnato che l'osso è materia viva, anche se noi lo vediamo inerte. Ci ha spiegato, mangia, si alimenta pure lui, c'è una fase osteoblastica, osteoplastica. Ma a questo punto, anche la cartilagine è viva. Possiamo dare qualche cosa alla cartilagine per rinforzarla, per contrastare? C'è l'acido ialuronico, ci sono altri medicamenti che possono favorire o il reintegro della cartilagine o la protezione della cartilagine. Per chi fa attività sportiva moderata, perché insomma chi la fa in maniera professionale ha sicuramente il medico dello sport che lo segue, ma per chi la fa saltuariamente, in maniera amatoriale, come può fare ad aumentare questo acido ialuronico? Cosa dovrebbe mangiare? Che altro deve usare degli accorgimenti, quando fanno questa ginnastica ogni tanto si devono fermare per un po' di tempo e poi riprendere. Cioè non stimolare eccessivamente la funzionalità articolare, meglio una pausa e poi riprendere. E poi riprendere. Professore, siamo alla coda dell'estate, inizio dell'autunno, continuano le punture degli insetti. Quest'anno le zanzare sembrano particolarmente dotate di un appetito particolarmente stimolato. Le punture di zanzare, degli insetti stimolano questo prurito molto fastidioso. Ci sono precauzioni che si possono prendere per evitare almeno in queste ultime settimane? Senz'altro, innanzitutto, cospargere sulle superfici scoperte delle sostanze repellenti. Poi, specialmente dei bambini, all'imbrunire, che è l'ora che queste zanzare pungono di più, coprire le parti scoperte. E comunque, ad un certo punto, bisogna cercare di evitare anche il contatto con animali, che sono portatori di queste zanzare o di altri. Professore, un'altra domanda che ci riporta poi ai pesci. Chiede questo telespettatore, per quale motivo il medico mi ha consigliato di mangiare prevalentemente salmone, sgombro e pesce azzurro? Faccio presente che mi ha riscontrato una artrite e, in particolar modo, una artrite reumatoide e anche diversi problemi legati a dei reumatismi. C'è una relazione, perché lei prima ha detto, che fa bene per il cuore. Ci sono alcune teorie che dicono che chi usa questo tipo di alimentazione evita il rischio per il 50% di ammalarsi di artrite reumatoide. Però, insomma, c'è sempre qualche dubbio. Professore, sempre a proposito, quindi visto che ci siamo incanalati nell'alimentazione a base di pesce, altro studio di un'altra università, si scopre che consumare troppo pesce grasso o oli di pesce aumenta del 43% il rischio di cancro alla prostata. Pesce grasso, ad esempio, potrebbe essere il salmone, quindi che non è pesce azzurro. Questo risultato è uscito perché gli acidi grassi hanno la proprietà di ridurre le infiammazioni legate a molti tipi di tumore. I ricercatori non sanno spiegarselo e per adesso trattano i risultati di questo studio con molta cautela. Lei cosa ne pensa? Ma io penso che qualche cosa succede a livello delle difese naturali dell'organismo. Quindi è evidente che questo eccesso di alimentazione può provocare qualche reazione, però non possiamo precisare quale reazione, che tipo di reazione. Professore, la chiamano a testimoniare in una disputa che si è aperta tra pensionati, persone che sono oltre la settantina, insomma si è accesa a questa discussione, noi in Italia poi siamo pronti a dividerci su tutto, Guelfi, Ghibellini, qui si è riusciti a dividersi sulla utilità o meno delle sabbiature. Praticamente queste persone soffrono di artrite alle ginocchia, alcuni di questi in estate sono andati a fare le sabbiature, altri dello stesso gruppo hanno detto vai solo a perdere tempo, non serve assolutamente niente. Apriti cielo, c'è questa discussione. Alla fine il terreno di pacificazione è, chiediamo al professor Faruni, le sabbiature sono utili o no? Assolutamente no. Anzi, possono addirittura causare una riacutizzazione della sintomatologia dolorosa o la comparsa addirittura. A proposito delle state che ci siamo lasciati alle spalle, professore, una signora di 60 anni ha notato che già negli anni scorsi le accadeva, quest'anno particolarmente, la signora ogni volta che è andata al mare insieme ai nipoti si adagiava su una sedia sdraio. Per rialzarsi aveva sempre bisogno di qualcuno che la aiutasse. Fa presente la signora che soffre di lombalgia recidivante. Chiede, professore, perché mi accadeva questo? Ma è logico, una signora di 60 anni è già un po' pesantita. Inoltre, in questo caso c'è anche un fenomeno lombalgico, questo movimento di discesa per sedersi sulla straia e lo sforzo di risalire da quella posizione può scatenare una sintomatologia dolorosa a livello lombosacrale. Questo invece è il caso che ci sottopone un paziente di 29 anni, pratica attività sportive in maniera amatoriale, racconta che da qualche tempo sente come un blocco, uno scatto nel ginocchio destro. Ogni tanto in maniera intermittente avverte dei dolori si comprime con le mani sui lati del ginocchio. Naturalmente andrà dal medico di famiglia, vuole sapere però da lei di che cosa si tratta. Lui esclude di avere subito dei traumi, esclude di avere avuto una storta, esclude che sia qualcosa legata alla corsa e vuole sapere, visto che lei ha parlato tempo fa di una patologia che prevede quasi una sorta di ginocchio a scatto, vuole sapere se siamo in presenza di questo caso. Ma in questo caso io credo che si tratti di una tendinopatia del legamento padellare nel punto di inserzione alla rotola. Quindi lui dovrebbe fare un'ecografia e mettere in evidenza se questa patologia è vera o no. Se poi è una tendinopatia, i provvedimenti da prendere sono inizialmente la borsa di ghiaccio e antidolorifici, successivamente la litoresia che risolve con una o due applicazioni il problema. Quindi la cosa importante è andare dal medico, di famiglia, gli prescriverà questo tipo di indagini. Dall'ecografia si vede se è una tendinopatia del padellare o meno. Ma da quello che lui dice, io credo che sia una tendinopatia del padellare. Professore, uno strano disturbo, almeno così lo definisce chi ce lo segnala, questo paziente se fa dei piccoli salti, anche molto piccoli, o salendo le scale, o quando si inginocchia per abbassarsi, per prendere qualcosa dal basso, nota che c'è una tendenza ad avvertire dolore nella parte inferiore del ginocchio. Lui posiziona questo dolore sotto la rotula. Il medico che ha consultato dice di avere rilevato nulla di strano, gli ha consigliato un po' di riposo. Questo disturbo però si fa sempre più frequente e fastidioso. Domanda, si tratta per caso di un dolore di tipo reumatico? Perché ci sono questi tipi di dolore nel momento in cui si fa questo tipo di movimento? Questo è il classico ginocchio del saltatore. e naturalmente il dolore che lui ha è indiscondibilmente uno stato infiammatorio dei menischi, o il mediale o il laterale. Ginocchio del saltatore, detto così potrebbe sembrare una patologia legata solo e soltanto a chi fa attività sportiva. Di solito sì, a chi ha fatto il saltatore o a chi si diverte a saltare o a dare un calcio al pallone. Quindi anche se non si fa sport, ma si sollecitano le ginocchia, può capitare. Può capitare. A proposito di ginocchia, questo caso ce lo segnala un telespettatore di 57 anni, è una donna di 57 anni, è andata dal medico perché ha rilevato un ingrossamento nella parte posteriore del ginocchio e questo ingrossamento le procura una limitazione nei movimenti, soprattutto nella flessione del ginocchio. Il medico, dopo aver palpato la parte dolente, le ha detto che si tratta di una semplice cisti di baker, non pericolosa, la cosa migliore è lasciarla in pace, le ha detto il medico. La signora ha detto, io mi sono vergognata di chiedere di più, vuole sapere da lei che cos'è una cisti di baker. È vero che non si deve preoccupare? È una cisti che si forma nella parte posteriore del ginocchio dovuta alla flessione del ginocchio e non si deve preoccupare che è una cosa benigna. In pratica questa cisti è un ammasso di grasso? Sì, è un'esorfezione di grasso. Professore, macchie scure nella pelle, il cambio di colorito della pelle, la comparsa di alcune macchie, in genere è legato e associato al trascorrere degli anni. In genere questo è dovuto alla produzione di melanina, che è una sostanza che produciamo naturalmente, quindi ci possono essere sbalzi ormonali, patologie surrenali o croniche. Un telespettatore di 50 anni ha letto che in Francia, in un laboratorio di dermatologia, hanno messo a punto un composto naturale che può attenuare, se non addirittura prevenire, queste macchie. Un prodotto ricavato dalla radice di liquidizia. Siccome però in Italia non ne ha mai sentito parlare, vuole sapere se è vera, se è affidabile questa ricerca e se lei ne ha mai sentito parlare. Ma in effetti io non ne ho sentito parlare, ma io continuo a prescrivere il vecchio sistema della nonna. Cioè, al mattino, quando uno si alza, la sera prima di andare a letto, si devono lavare bene le mani, magari con saponi oleosi. Subito dopo, si devono massaggiare le mani, una con l'altra, con succo di limone. Questo fatto, questa terapia che abbiamo accortito dalla nonna, protratta per un mese, un mese e mezzo, due mesi, schiarisce completamente le macchie, tanto che non si vedono quasi più. Vale solo per le mani o anche se compaiono in altre parti del corpo, queste macchie? Ma io l'esperienza ce l'ho sulle mani. Quindi a lei questo... Che hanno dato dei risultati ottimi. È stato assolutamente efficace. Sì, sì. Bene, professore, per oggi ci fermiamo qui. Grazie per essere stato con noi, grazie per aver risposto ai nostri telespettatori. Ci vediamo tra una settimana. Tra una settimana. Sesta ora, stessa rete. Arrivederci. Grazie per aver guardato il video.